Non è qualcosa che noi possiamo o vogliamo fare da soli. Quello che io ho in mente è che l'Italia può essere pioniera in questo nuovo approccio, ma è fondamentale che noi riusciamo, con il nostro buon esempio, e se dimostriamo che funziona, che riusciamo a coinvolgere, chiaramente a livello internazionale, tanti altri, riguarda il tema dell'Unione Europea, riguarda il tema del G7, non è un caso, ripeto, che io abbia aperto, noi abbiamo aperto il G7 proprio con il vertice Italia-Africa, non è un caso che il tema del rapporto con l'Africa, del ruolo del continente africano nell'attuale contesto geostrategico sia una delle principali questioni che l'Italia ha scelto di portare nella sua presidenza del G7, che ha scelto di portare al Summit dei Leader, che come voi sapete si svolgerà tra il 13 e il 15 di giugno di quest'anno, ma lungo tutto l'anno della nostra presidenza G7, e chiaramente se noi vogliamo riuscire in questo sforzo, cioè immaginare una strategia italiana che però è utile non solamente all'Italia, e convincere gli altri, portare gli altri su quella strategia, chiaramente è importante che sappiamo farlo bene noi, se non lo sappiamo fare bene noi difficilmente coinvolgeremo gli altri. Questa è la ragione per la quale abbiamo voluto, ripeto e chiudo davvero, una convocazione così ampia e una struttura così ampia che potesse davvero coinvolgere tutti coloro che possono fare la differenza. Grazie per il contributo che molti di voi hanno già portato, grazie soprattutto per il contributo che porterete a partire da oggi. Noi siamo sempre a disposizione, questa è una delle nostre assolute priorità. Io mi fermo qui e do la parola ai ministri che vogliono intervenire.